Adesso dobbiamo creare questi simboli, questo, questi, questi, ci sono delle differenze tra i simboli e le scritte perché i simboli sono già presenti all'interno delle librerie di SoStamps Painter, le scritte o ve le fate voi e le potete chiaramente utilizzare anche come decal, quindi come delle stampe, oppure utilizzate un'altra tecnica che vedremo dopo, quindi la scritta andrebbe preparata ad esempio in un programma di fotoritocco. Prima di tutto andiamo a costruire un nuovo layer per quanto riguarda le stampe dei simboli, questo layer lo mettiamo qua sopra le norma ad layer ed lo chiamiamo decal che sta per le decalcomanie, in decal noi lavoreremo con gli alfa, quindi con gli elementi alfa. Qui lui si ricorda del fatto che noi stiamo lavorando ad esempio con le normali, cancelliamo la normale che abbiamo utilizzato precedentemente, utilizziamo il colore, ad esempio roga, gli altri elementi non ci servirebbero, comunque li possiamo pure lasciare per un attimo, quello che mi interessa è quello che c'è qui dentro, quindi dentro questa tipologia di shapes, per intenderci qui dentro, in questa locazione. Andiamo a prenderne uno e vediamo come funziona, ad esempio andiamo a prendere una X, che è questa, andiamo ad aumentare la dimensione, size, e l'unica cosa che io dovrò fare è cercare di allinearmi un attimo e decidere qual è la dimensione del mio elemento, decidere qual è il colore di base, se voglio fare un colore diverso dal bianco, posso fare un colore leggermente grigino così oppure lasciarlo bianco, decidete voi, ed cosa importante più che altro è la dimensione in questo caso. Poi ovviamente se lo vogliamo un pochino sfumato sui bordi possiamo provare, però in questo caso il mio hardness, come vedete non viene preso in considerazione perché lui è già una maschera, questa è una una maschera negli attributi, quindi non abbiamo il controllo dell'hardness. Abbiamo questi controlli che si possano utilizzare per andare a modificare la quantità di X che c'è all'interno, poi abbiamo il width perché possiamo andare a modificare diciamo lo spessore, lui si ricorda ancora lo spacing precedente, quello diciamo un pochino più distanziato, però in questo caso non ci serve, quello che ci serve più che altro quale dimensione, quindi facciamo un clic qua così, ok. L'unica cosa che dobbiamo fare è cambiare il il nostro elemento, in questo caso basta fare un clic e lui in automatico cambia la mia maschera, perché questa è una maschera, quindi decidiamo noi che cosa utilizzare per i nostri tasti, ad esempio questi, qua facciamo un tasto di fantasia qui sopra, se non è ruotato correttamente possiamo fare la rotazione con questi strumenti, ma c'è anche la rotazione interattiva con il tasto sinistro del mouse che si sposta in avanti e indietro, quindi dovete andare a muovervi in verticale, sempre con il tasto ctrl premuto, anche qua nei parametri abbiamo ad esempio hair of depth, quanto deve essere spessa la banda dello spessore, se troppo diciamo piccolina, si fa un clic ed eccoli qua, molto semplice, ognuno di noi può mettere gli elementi che preferisce, qui ad esempio per fare i tasti possiamo utilizzare questo, e the border width è un pochino piccolo questo bordo, quindi lo facciamo un po più grande ed andiamo in rotazione, questo lo potete anche un attimo fare scendere, vi mettete qua, cercate di allinearvi un attimo, perché la rotazione forse è la parte leggermente più ostica, si fa un clic qua, si ruota dall'altra parte, si fa un clic direttamente qui, io li faccio ad occhio perché è più semplice, si fa un clic direttamente qua, che crea anche una leggera casualità che non ci sta male, e un clic direttamente qua, poi se volete come ho già spiegato c'è questo strumento, ok, abbiamo ad esempio un segno più su questa parte, quindi possiamo andare a cercare un segno più direttamente all'interno dell'alfa, ce ne sono alcuni, come questo, questo è ruotato nel modo sbagliato, una cosa come questa, ovviamente in questo caso deve essere un pochino più piccolo, facciamo un clic qua, così in segno meno, non c'è, si può fare chiaramente all'interno di una qualsiasi linea in programmi di painting, ci sono dei segni multipli in verticale, ad esempio come questo questo, questo lo potete usare e poi andate a cancellare quello che non vi interessa quindi vi mettete direttamente qua, lo ruotate nella posizione che vi interessa, lo ingrandite un attimo qui abbiamo line, con il tasto control, abbiamo la possibilità di andare a modificare quanto questa linea deve essere diciamo lunga, come potete osservare, quindi io do la dimensione poi modifico il line, ed andiamo in rotazione, così, faccio un click qua in mezzo vado a prendere la gomma, che è questa, la facciamo più hard, più secca e riduco un attimo la dimensione e vado a cancellare le parti che non mi servono ok ritorno sul mio tasto di paint seleziono diciamo un quadratino per questa parte qua in questa locazione quindi scegliamo una maschera con una forma quadrata, ad esempio square, questa qui bordered width è un pochino piccola, quindi la faccio un pochino più grande e vado a ridurre un attimo la dimensione faccio un click qua in mezzo qui abbiamo un simbolo tipo una freccia poi abbiamo una freccia rivolta verso il basso che ho messo qua nella parte, come dire, centrale in questa locazione in questa locazione un pochino diversa da quelle che abbiamo usato fino a questo momento ad esempio questa in questo caso la faccio più grande quindi qui abbiamo fatto delle semplici decalcomanie sui nostri tasti ci sono anche dei piccoli elementi che ho messo qua di fianco dove ci sono delle spie lì è sufficiente inserire chiaramente un circolo una piccola parte, come dire, circolare come ad esempio queste le shapes queste tipologie di shapes che noi abbiamo andiamo chiaramente a ridurre la dimensione in size si può provare in questo caso a utilizzare la modalità di simmetria per vedere se io faccio un click direttamente qua viene proposto anche di là però vedete che in questo caso devo stare un pochino più lontano perché sarei qua ne faccio una qui e ne faccio ad esempio un'altra qua ok disattivo la simmetria